Buongiorno, sono Roberto e volevo parlarvi di questo prodotto, l'FLX. Io per tanti anni ho svolto attività di agente di commercio, quindi moltissime ore trascorse in macchina. A un certo punto, purtroppo, ho avuto una patologia a carico dell'articolazione cosco-femorale sinistra e quindi un dolore continuo, 24 ore al giorno, che andava a peggiorare in particolari condizioni atmosferiche e non c'è stato modo di eliminarlo, quindi per tanti anni ho subito questo dolore che mi portava a conseguenze anche nella mia attività di ballo che io esercito e quindi con delle, purtroppo, noiosità di questo tipo. Mi hanno fatto conoscere, appunto, questo prodotto, che per me era una novità, diciamo. Quindi ho ascoltato i consigli che mi hanno detto, l'ho provato e dopo circa tre settimane il dolore è andato via completamente. Ma non solo, anche il mio assetto generale a livello scheletrico, ossa, tendini, giunzioni, è migliorato. Io mi sento oggi un altro e incrociando le dita penso di aver risolto definitivamente questo problema. Per quanto io lo consiglio a tutti quanti, a tutte le persone che possono avere problemi sia di questo tipo ma anche avanti con l'età, perché comunque va a ottimizzare tutto il nostro sistema osseo. Grazie a tutti! Grazie a tutti.